Rugby Magazine è di Rugby nel periodo... no, ripartiamo, ripartiamo... Rugby Magazine, sì no perché avevo visto, c'è Davide Macor, che è bravissimo lui a fare le registrazioni, anzi lui fa diretta, a Rugby Magazine ci stiamo attrezzando adesso con queste registrazioni e beh già che ci siamo introduciamo la nostra prima ospite, la cara Manuela Furlan, è capitano della Nazionale Italiana Femminile, la siamo riusciti a strapparla tra un'intervista e l'altra, perché per contattarla mi ha detto sì ma guarda un attimo devo vedere sull'agenda perché è il giorno di riccio, questo, sabato, quest'altro, tutte in diretta, noi invece siamo in registrazione, quindi eventualmente possiamo inserirci tra una cosa e l'altra. Buongiorno Manuela, come stai? Buongiorno, sto benissimo, grazie, tu come stai? Non male devo dire, a differenza di tanti altri io riesco ancora a lavorare da casa e quant'altro, penso a tutti coloro che sono in cassa integrazione o altro, che o stanno tornando a lavorare o che ancora non sanno quando torneranno, tu in che condizioni sei? Io fortunatamente sono una di quelle che ha ripreso a lavorare circa due settimane fa e la mia è una delle poche aziende che è sempre rientrata nell'elenco a teco, se non sbaglio, quindi non ha mai chiuso perché è sempre rientrata nei parametri delle industrie che poteva stare aperte, visto che ci occupiamo di logistica trasporti e comunque abbiamo a che fare con il settore alimentare. Ma come è cambiato il tuo approccio al lavoro con tutte queste nuove disposizioni che poi arrivano fuori le innovazioni settimanalmente, quindi al di là dei DPI, tutte queste nuove impostazioni sul lavoro? Eh, c'è chiaramente appena arriviamo la mattina una routine da rispettare, tra cui per esempio la misurazione della febbre e poi come dicevi tu i DPI che sono diventati obbligatori, quali guanti e mascherine oltre alle classiche, insomma dotazioni che avevamo già, quali scarpe antinfortunistica e il caschetto ma in realtà il mio rientro è stato bello perché come tu sai io rientravo da un periodo di malattia causa dell'operazione alla spalla, quindi è stato bello riprendere e mi sono sentita veramente fortunata nel poterlo fare. Infatti sto andando a lavoro ogni mattina con... penso che questo periodo di quarantena dovuto a tutto quello che sta succedendo ti faccia anche riflettere sulle piccole cose quale avere un lavoro che forse poi tanto piccola non è. Quindi sto andando proprio a lavoro con un altro sentimento, con un altro entusiasmo e anche i miei colleghi si sono accorti che effettivamente sono diversa. Sono fatta qualche domanda. Senti, si dice giornalmente non sarà tutto più come prima, tutto cambieremo, lo hai detto anche tu, riscopriamo certi valori che magari avevamo sopito o dimenticato, ma in realtà come potrai, come vedi la tua vita da qua alla fine dell'anno a 360 gradi? Ma secondo me sai con le disposizioni che come dici tu giornalmente, settimanalmente, mensilmente vengono aggiornate, stanno cercando di farci cambiare un po' abitudini che non è perché qualcuno ce lo impone perché ha deciso così, è semplicemente per la nostra salute. Quindi ci stanno gradualmente abituando a far sì che questa routine che io per esempio ho a lavoro diventi la routine di tutti i giorni di qualsiasi persona, la dotazione appunto di mascherine, guanti o gel, per fare in modo che insomma nel momento in cui saremo tutti in strada, liberi comunque di poter fare o riprendere bene o male quelle che erano le nostre attività prima di tutta questa emergenza e utilizziamo... Cioè alla fine credo che quello che interessa un po' a tutti è la precauzione, no? Quindi che diventi proprio un'abitudine, aspetta esco non senza il cappotto ma anzi, no ho preso i guanti, ho preso la mascherina e solo così effettivamente le cose potranno riprendere bene senza il rischio di una ricaduta, ecco. Molto bene, nel frattempo ti avevamo perso per una manciata di secondi, quindi magari se il cuore del tuo discorso magari lo abbiamo perso, però ti diamo una seconda possibilità nel senso, dopo la Lombardia e l'Emilia, il Veneto alla pari del Piemonte sono le due regioni colpite pesantemente, la provincia di Treviso, la provincia di Padova avete veramente sofferto. Tu che da due settimane sei andata in giro per le strade per andare al lavoro, come hai visto il riscontro dell'attenzione da parte dei tuoi concittadini corregionali? Gli hai visti rispettosi in pieno delle regole o come abbiamo visto in alcuni servizi un po' me ne freghisti? Ma qualche furbetto credo ci sia un po' ovunque. Io sono una di quelle persone che per senso civico ha rispettato fino all'ultimo tutto quello che il decreto prevedeva e il consiglio che era quello di restare a casa a meno che non fosse strettamente necessario uscire. È chiaro che quindi ogni tanto mi affacciavo dal mio balcone e vedevo qualche furbo che usciva senza la mascherina, per carità, non c'era nessun altro attorno a lui e quindi non posso neanche giudicare e non posso neanche sapere effettivamente il motivo per cui ha uscito. Però sai, qualche domanda e un po' il sospetto ti viene comunque naturale. Poi riprendendo ad andare a lavorare devo dire che c'è Zaia che sta facendo, che è il nostro governatore, che sta introducendo pian piano qualcosa in più nel senso che Conte lascia tante decisioni ai sindaci delle varie città eccetera eccetera e Zaia sta un po' secondo me raccogliendo tutto il lavoro di questi sindaci e ci sta aiutando pian piano ad avere un po' più di libertà sempre comunque nella sicurezza. C'è chi può pensare che sta facendo un lavoro sbagliato, chi può pensare che sta facendo un lavoro è una cosa soggettiva che va anche a simpatia. Però devo dire che da quando ha fatto un ultimo intervento dopo il discorso di Conte che ha spiegato il nuovo decreto che sarà in vigore da lunedì, Conte ha dato qualche libertà in più già a partire dai giorni successivi al discorso di Conte, quale per esempio la semplice attività motoria singolarmente fuori strada. Io sono una di quelle che lo ha fatto, sono uscita e ho visto tanta gente, ma tutte queste persone non ce n'era una senza mascherina. C'era talmente tanta voglia di riprendere un po' quella routine o anche semplicemente respirare un po' di aria fresca che tutti pur di farlo hanno rispettato tutte quelle che sono le nuove regole, le nuove disposizioni. È giusto qui, adesso arriviamo perché tu come sportiva e tu come tutte le tue compagne di squadra, come vi state comportando e come vi state preparando per non perdere lo smalto fisico? Abbiamo la fortuna di essere seguita da una preparatrice molto presente che è Serena Chiavaroli che in tutte queste settimane ha reso la nostra quarantena devo dire molto meno noiosa rispetto penso ad altre persone. Lei quotidianamente ci forniva un programma molto semplice che si poteva eseguire in poco spazio, quindi non avevi scuse per non farlo, con attrezzi che potevi trovare tranquillamente in casa e dalla bottiglia qualsiasi cosa, poi stava anche un po' a te inventare, però insomma non ci ha fatto annoiare, anzi sta continuando a non farsi annoiare. Quello è importante, il campionato che è terminato a febbraio, voi a parte eravate al vertice della classifica, a testa a testa con il Valsugana, come vedevate il proseguio e la primavera? Dura lotta ai playoff o ritenevate, speravate ovviamente, ma ritenevate di rincontrarvi con il Valsugana di nuovo alla finalissima? Ma l'obiettivo era comunque quello di ritornare in finale, quindi stavamo concentrando tutte le nostre energie per cercare di arrivare a quell'appuntamento nel miglior modo possibile, quindi a livello di forma e a livello anche mentale, insomma nella sfida che abbiamo avuto contro loro in campionato, la sconfitta è stata netta e non ci sono scuse, non ci sono aggravanti, esatto. Quindi l'obiettivo era comunque di ripresentarci allo scontro diretto in casa, sicuramente diverse da quelle che erano scese in campo lì a Padova e un po' con lo spirito insomma di giocarsela, visto che il risultato finale dell'altra sfida è stato ampiamente molto largo. Poi diciamo anche che sarebbero rientrate delle pedine importanti, ma non che potessero insomma cambiare solo loro il risultato della partita. Era un rinforzo del gruppo. Esattamente, il rinforzo del gruppo e sicuramente molte alternative a livello di formazione e quant'altro, quindi sicuramente anche lo spirito stesso del gruppo sarebbe stato diverso rispetto a quello di Padova. Dopo sì, ovviamente il campo che è detta la legge e anche l'opportunità. Mi ricordo la finale che avete giocato lo scorso giugno, il primo tempo, bella lotta equilibrata con una percentuale a favore del Vasugana, poi sono stati dei giochi in campo che hanno determinato la vostra vittoria. Mai nessuno l'avrebbe magari detto all'inizio, quindi è vero che il campo è quello che è detta legge. Allora, ultima domanda. Sei stata preparatissima? E' l'emozione di incontrare qualcuno, capisci? Anche solo attraverso uno schermo e parlare. Immagino, immagino, immagino. Senti, vediamo se sei preparata. Io non ne so nulla di questo campionato virtuale femminile che la cara amica Tonna ha ideato con la federazione. Ma che cos'è? Ma io credo che sia partito tutto da qualche ragazza. Non vorrei sbagliare del CUS Genova. Credo sia partito da un'idea loro. Non vorrei dire qualcosa di sbagliato. Ne so poco anche io perché avendo ripreso poi a lavorare quella che era la mia vecchia routine ed essendo iniziato il campionato in concomitanza la mia ripresa lavorativa, io sono una di quelle ragazze che può dedicare poco tempo e niente a queste sfide. So però che è un campionato a cui hanno aderito tutte le squadre. Quindi è un campionato di giorni. Ogni settimana ci sono dei gironi, scusami, siamo divise in gironi. Ogni settimana una squadra per ogni girone decide la sfida e qui c'è veramente un'infinità di sfide che puoi fare perché sono di abilità, di tecnica, astuzia, cioè qualsiasi cosa ti venga in mente. La squadra in questione lo propone alle altre due sfidanti e vengono mandati video al giudice del turno. La scorsa settimana è stata la tonna e il giudice poi stabilirà quale delle tre è stata la prova migliore. Poi c'è la pagina Ladies Racky Club che assegna anche il punto di bonus in base a se è stato fatto nel minor tempo, nella maniera ottimale insomma così. E quindi se non sbaglio i punteggi sono sette, quattro e sette è il migliore che tu possa prendere. Poi quattro e poi quattro. Andremo ad informarci da chi di dovere per avere maggior. Comunque sei stato esaudito. Molto interessante devo dire. È molto stimolante anche. Ma è molto bello che comunque tutte le squadre abbiano aderito con entusiasmo a questo campionato. Non vi era dubbio. Il movimento femminile ha tutto un altro riscontro. No ma è vero. Lo sai che ne parlo con cognizione di causa. Essendoci dentro non solo da 30 anni ma soprattutto adesso ancora di più con mia figlia. E devo dire che a qualsiasi categoria c'è un altro riscontro, un altro affiattamento. C'è molto più spirito di rugby nel mondo femminile. Botte magari d'orbe in campo come si suole dire una volta ma fuori siete le prima ad abbracciarvi, a ridere, a scherzare e a rincontrarvi anche fuori dai periodi di campionato. Guardate i complimenti perché siete veramente un movimento italiano vincente non solo in campo ma forse quello che esprimete in campo è proprio la punta dell'iceberg del vostro movimento. Questo mi fa piacere. Grazie. Grazie delle tue parole. Prego. Manuela siamo in finale. Ti lascio libero campo di salutare chi vuoi, mandare al paese chi vuoi, augurare ciò che vuoi, vedi tu. No, il mio augurio è che tutte le persone insomma non mollino proprio adesso e che ci vorrà ancora tanta pazienza. Insomma, il messaggio che voglio passare è proprio non mollare. Speriamo. Dura i banchi come si dice in Veneto e in bocca al lupo a tutti gli sportivi. Ringraziamo Emanuela Furlan che adesso concludiamo con quella quella che concludiamo sulla registrazione. Emanuela, non mettere giù subito la linea che poi noi concludiamo la nostra chiacchierata. Un ringraziamento a tutti coloro che su Rugby Magazine hanno seguito questa prima intervista del rugby in periodo di Covid-19. Alla prossima intervista. Ciao Emanuela. Ciao.